Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Se vi state chiedendo perché sto parlando di Conte in questo video, due giorni dopo la conferenza stampa, la risposta è molto semplice. Sono emerse delle cose molto interessanti di cui voglio parlarvi e che rispondono, secondo me, a una domanda molto importante che noi tutti ci siamo fatti. Ovvero, perché nella conferenza stampa di Conte non sono state fatte domande scomode, sia Conte e sia Marotta? Come mai? Prima di rispondere però a questa domanda, voglio invitarvi a lasciare un like al video e iscrivervi al canale, perché, come al solito, YouTube tende a non avvisare tutti i miei iscritti sui contenuti che tendo a postare quotidianamente sul mio canale. Vi ricordo anche che stasera alle 22 ci sarà una live di calciomercato in cui io, con alcuni ospiti, analizzeremo quelle che sono le trattative più calde del mercato della Juventus e lo stesso appuntamento verrà replicato domani in un format Q&A in cui io, con voi, vis-a-vis, analizzeremo le trattative. Detto questo, torniamo a noi, torniamo all'Inter e parliamo dei contenuti di quella conferenza stampa. I contenuti della conferenza stampa dell'Inter sono stati di una banalità inaudite, domande piate, non provocatorie, non complicate, molto semplici per cui anche un bambino di 8 anni avrebbe saputo rispondere alla grande, se formato inizialmente. Però, torniamo a noi. Su cosa verteva sempre la risposta di Conte? Sempre sul lavoro e così via. Io ricordo bene un altro trattamento a Sarri nella trattativa della Juventus. Ricordo delle domande sul passato, ricordo delle domande che avevano come obiettivo un po' quello di creare zizzania, un po' di pepare questa sorta di conferenza stampa di Sarri. Le domande erano anche complicate e Sarri ha saputo rispondere alla grande, svincolandosi molto bene da quelle che potevano essere le polemiche legate alle sue dichiarazioni del passato e così via. Così non è stato con Conte. Io una domanda me la sono fatta. Ma come mai non è successo nulla di tutto ciò nella conferenza dell'Inter? E forse una risposta l'ho trovata. Perché Fabio Ravezzani ha postato un tweet in cui si indignava per la scelta dell'Inter di vietare a tutte le emittenti locali il passaggio, la presenza, alla conferenza stampa dell'Inter. Per cui tutti i giornalisti delle emittenti locali non sono stati invitati alla conferenza stampa dell'Inter e ne è stato dato il consenso a loro di poter assistere e far domande ad Antonio Conte e a Beppe Marotta. Questo per me è una scelta abbastanza discutibile e grave. Un po' da Unione Sovietica, no? La vecchia Unione Sovietica. Un po' dittatoriale. Una sorta di regime comunicativo che forse si sposa bene col nuovo slogan dell'Inter. Not for everyone. Quindi solo con chi pare a loro. Non per tutti, ecco. Non è una cosa per tutti l'Inter. Che poi collima male i ragazzi tantissimo con il nome internazionale. Cioè come dire, cioè è uno simoro. È uno slogan che è lo simoro di quello che è il nome della squadra. Però detto questo, detto questo, il problema è il seguente. L'Inter ha vietato a tanti giornalisti di partecipare alla conferenza stampa. Ma voi direte, sì, ma quelli che c'erano effettivamente qualche domanda scottante, polemica, che portasse un po' al contraddittorio la potevano fare. E avete ragione. Però a quanto pare il reparto comunicazione dell'Inter ha deciso di fare filtro su tante domande. Per cui certi giornalisti che magari avevano in mente una domanda specifica sul passato di Conte, su dichiarazioni dello stesso Antonio Conte magari sull'Inter, sono state vietate appunto ragazzi. Quindi questo è essenzialmente. Fa ridere nel 2019 perché se un reparto comunicazione arriva a mettere la censura ai giornalisti c'è qualche problema. Diciamo che questo reparto comunicazione avrebbe un po' da ripassare qualcosina perché nel 2019 porre ancora la censura che poi, ripeto, io vi dico quello che ho sentito su Twitter anche da parte di alcuni giornalisti. A me pare una cosa abbastanza grave. Proprio cinese questa società in tutto e per tutto. Sono spiazzato e sono comunque soddisfatto perché ricordatevi una cosa. Quando vi diranno che i media sono asservili nei confronti della Juventus, ricordatevi di questi episodi. Perché a Sarri le domande provocatorie non gliele hanno mica risparmiate. All'Inter è stato fatto filtro, i giornalisti muti e chinare la testa e nessuno ha protestato. Se non proprio quelli degli emittenti locali, persona a cui è stato vietato l'accesso a questa conferenza stampa. Questo è... ditemi la vostra sotto nei commenti e ci vediamo stasera. Mi raccomando, ore 22. Se non ci sono notizie di mercato scottanti, direi che non uscirà altro video. Se uscirà un altro video è perché ci sarà una sorta di edizione straordinaria o qualcosa che ho da dirvi magari di importante. Detto questo, veramente, iscrivetevi al canale, cliccate like. Ci vediamo stasera alle ore 22 sui mercatari con tanti ospiti, parliamo di calciomercato. Basta, tutto qua. Ciao a tutti e sempre, fino alla fine, forza Juve. Io sto qui! Io sto qui!